Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio della nostra carriera dedicato a Mono Albertone per giocarcela col Milan e non sarà affatto semplice, soprattutto perché stiamo in pieno turnover come avevamo anticipato, mi tocca far giocare addirittura Ramos perché abbiamo PC stanchissimo e la coppia di centrali stanchissimi, per cui c'è Mariappa adattato in mezzo insomma, non è che stavo messi benissimo, ho dovuto anche riprendere Silicardi insomma, l'unica cosa che vorrei fare, adesso che ci penso, è mettere Adebayor da primo minuto e Diagana pronto a subentrare, perché Diagana abbiamo visto che mi è decisivo solamente quando subentra per cui vorrei conservare quest'arma segreta per la fase avanzata ci giochiamo, diciamo, gran parte del nostro attuale campionato con Milan che è davanti ma potremmo acchiapparlo con una vittoria e oggi torna anche Billy in campo a grande richiesta speriamo non si faccia maledire di nuovo, che dire, la prossima partita la giocheremo poi con una formazione particolare per cui vi invito a restare sintonizzati, se così vogliamo dire io ho bisogno di un'improbabile vittoria oggi, con una squadra di mezzi reietti oggi perché giocano tutti gli scarti, di una squadra già composta riccamente di scarti, ahimè bravo Marika, alla faccia di chi ti chiama scarto ecco, Billy subito fa vedere di che passo è fatto, bravo Billy, niente, Billy fa una cosa fatta bene e tre male dalla dietro, bravo, facciamo giocare, facciamo giocare, non rallentiamo il gioco Ramos ha la prima stagionale e il primo pallone è una gemma è veramente una gemma il primo pallone toccato da Ramos che è leggermente fuori forma, sono tre stagioni che fa panchina, anzi tribuna oggi infatti quasi non ci credeva il piccolo Ramos abbiamo capito che non possiamo liberarci di lui, per cui tanto vale coinvolgerlo nel progetto tecnico no scozza mio però Billy sta diventando come Felipe Anderson, ha la stessa voglia di partecipare alla manovra bravissimo di Gaudio, di Gaudio, di Gaudio, di Gaudio, fatela tutta fatela tutta di Gaudio per la De Bajor no ma stai alto una quaresima, perché non Billy, 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 lo vedo in forma pure Billy mamma mia Billy, stai messo peggio di quando ti ho messo fuori rosa oggi c'è stato questo revival dovuto più che altro alle vostre tante richieste sia sul gruppo facebook di FIFA nostro sia sui commenti ma me sto già a pentì, ecco vai Billy, fammi ricredere Billy facciamo ripartire la nostra mirabolante storia d'amore Billy bravo Billy, bravo Billy ma perché? c'è De Bajor vicino possiamo andare in vantaggio, so tre punti il Parma vola, invece no scozza, apri tutto di Gaudio segna sempre lui, segna sempre lui qui dentro se non ci fosse di Gaudio saremmo una squadra finita staremmo lottando per la retrocessione, per non retrocedere mazza De Bajor che visione di gioco però il buona Deba ah tra l'altro a proposito di attaccanti io ho realizzato sempre parlando del gruppo facebook in cui ci intratteniamo ormai giornalmente a chiacchierare di calcio e di questa serie che ho comprato l'orientale sbagliato non era Lee Wo Song quello che volevo ma era quello del Cagliari che è molto più forte quindi ho comprato una gran campione ecco definiamolo gran campione ha un botto di soldi perché a quanto pare potevo averlo molto meno e non è quello che volevo per cui so preso molto bene ecco sono tanto contento quindi adesso l'unica via è quella di comprare anche quello giusto e fare una coppia di attaccanti coreani che possano fare invidia a Bush e quell'altro 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 ecco non diamo definizioni che qua su YouTube è un problema serio definire le cose visto che non si può dire più niente e quindi taccio taccio che non è una parolaccia ma taccio bravo Ramos sta giocando bene anche Ramos oggi è tipo una sorta di rivelazione divina vai Billy vai Billy bravo Billy ma è da dentro è l'entrata è l'entrata è l'ho vista dentro e c'ha delle prospettive sto gioco che ti fa vabbè e va bene facciamo finta di niente comunque veramente c'ha delle prospettive allucinanti sto gioco per cui ogni volta che ti rimporta lo fanno apposta secondo me è un po' come il gratte vinci dove tu c'hai che ne so 42 e ti escono i numeri 43 e 41 è lo stesso principio del riprovaci no Rodriguez no allora intanto potremmo parlare per un per una mezz'ora della parata di palle del nostro del nostro Rodriguez che ovviamente non ha prodotto grandi risultati e poi del mirabolante colpo di testa di Tissone a liberare che anche quello devo dire che c'ha c'ha siamo riusciti a far segnare a Andre Silva o cioè ma risuscitiamo pure i cadaveri adesso scusate posso vedere un attimino adesso ormai che mi avete fatto riscoprire sta cosa del cioè da notare da notare il mirabolante gesto tecnico il mirabolante gesto tecnico a liberare non si sa bene con cosa l'abbia presa e Andre Silva incredulo della serie e mo che devo fa si piega senza con gli occhi chiusi perché infatti sta guardando da un'altra parte pregando di non prendere il pallone perché non voleva segnare manco lui e la mette dentro vabbè io io alzo le mani perché qui a sto gioco quando scatta il 45esimo c'è il momento fuori tutti tipico delle feste quelle illegali in cui succede il delirio e vabbè che cosa dire non diciamo niente che è meglio perché se dico qualcosa è meglio di no allora Diaganà la svolta Diaganà facciamo entrare Sadler al posto di Scozza che non è che mi abbia esaltato granché e Marcos al posto di uno spento Billy che quest'anno me sa che sarà l'ultima apparizione che fa caro Marcos ti abbiamo messo un po' in naftalina sto inizio campionato fammene pentì non l'avete fatto mai giocare Marcos fammene pentì bravo Mariappa per Ramos che si propone una gran bella palla no no era venuto il tacco a Sadler veniva giù tutto niente comunque partita surreale veramente surrealissima sempre peggio sta serie appoggia appoggia porcaccia la misera me dovete far morire me dovete far morire io ho capito che me dovete far morire è un tentativo di eliminare il mister bravo di Agana 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 è riuscito a far segnare pure Silicardi che è la cosa più inaspettata di questo campionato può succedere tutto adesso adesso che ha segnato Silicardi credo che possa succedere cioè credo anche a cose maggiori di una qualificazione Champions a questo punto Agana opera d'arte la difesa del Milan ben piazzata e Silicardi la mette dentro in scioltezza come neanche Andre Silva ha saputo fare bene così bene così chi l'avrebbe bravo Silicardi scatenato Silicardi Silicardi scatenato nooo aveva fatto tutto troppo bene non poteva durare mamma mia Ramos che partita che partita Ramos chi l'avrebbe mai detto lui voleva restare perché sapeva di valere sapeva a differenza di Tisson che adesso lo mandiamo via bravo Tisson di Agana mamma mia ma come gioca oggi Di Gaudio tu fai sempre dei tagli meravigliosi ma Klein è più veloce bravo Di Gaudio nooo sull'asse storica che ha portato il Parma in serie A Di Gaudio Silicardi stava venendo fuori il gol dell'anno ma ce l'hanno negato in maniera fin troppo severa bravo Ramos super Ramos oggi super Ramos il nostro il nostro Sergio Ramos no no regà mamma mia Rodrique stava lisciato pure questo calma 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 che bella palla De Marcos ma chi sei Del Piero andiamo fino in fondo per cortesia Di Gaudio Di Gaudio Di Gaudio eh vabbè non c'è nessuno sul secondo valo Di Aganass era intrattenuto a chiacchierare a delle donne col difensore del Milan se mi pareggiano adesso veramente urlo tipo bambina di tre anni eh ve lo dico bravo Marcos bravo Marcos così 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 Di Gaudio fatte vedere però Di Gaudio bravo Di Gaudio di Agana porca va bene va bene uguale va bene massa Marcos comunque prestazione da dieci e lode oggi Marcos delle aperture che manco pirlo quando giocava a Brescia bene così bene così partita inaspettatamente dominata col Milan per cui adesso siamo abbiamo fatto un bel balza avanti in classifica ma tipo notevole stiamo a 17 terzi in classifica boni tutti a 5 punti da Genova che è primo e che adesso abbiamo subito vabbè adesso è il momento è il momento drammatico perché adesso tra l'altro e qua vi parlavo di formazione particolare perché intanto vediamo vabbè io non posso fa niente non c'ho una lira manco per piagne Pedro Jesus vabbè sono tutti 60 60 64 Lorenzo Vos ma non lo voglio toccare per il discorso che mi facevate sulla distribuzione delle statistiche lasciamoli maturare con calma scadenza nazionale vabbè qua avevo già fatto tutte tutte le cose le convocazioni del Camerun ve l'ho fatto dell'altra volta la formazione che mettiamo oggi è quella che avete scelto gran parte di voi nella nel profilo Instagram del nostro diciamo fan club se così vogliamo definirlo il comode i falchi vi lascio come sempre il link in descrizione hanno scelto hanno fatto scegliere a voi la formazione insomma quelli che seguono questo profilo su Instagram e la formazione è la seguente abbiamo Zaza come centravanti di Gaudio a sinistra Kuruma a destra poi abbiamo Luis Alberto trequartista Barilla da una parte e Sola dall'altra scusate mi sto impicciando ecco Sola dall'altra Barilla qui dove sai Antoine ti cercano poi in difesa PC da una parte Mariap a destra a quale Sar con in porta però Kuruma io adesso non so come andrà questa formazione però appunto ci tenevo a dar seguito alla fatica che avete fatto per sceglierla che appunto è stata frutto di diverse votazioni che hanno tenuto i ragazzi che gestiscono il profilo per cui vediamo come va speriamo che Zaza possa sbloccarsi perché insomma sarebbe la ciliegina sulla torta oggi per rilanciare insomma le nostre mire di conquista per cui andiamo andiamo a Genova andiamo a Genova e sarà terribile giocarla con Zaza titolare ma l'importante è che ci sia Diaganà in panca Diaganà pronta a subentrare altre vabbè mettiamo questa pronto anche lui a subentrare e per il resto va bene così ragazzi speriamo bene se si vince qua si inizia a ragionare perché con la prima della classe sarebbe meraviglioso anche perché ci andremo a proporre in una posizione di classifica particolare diciamo così mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi kurumaga se va a segnare sul palo suo i difensori che non arrivano perché stanno sempre fuori tempo bene pc se lo perde io vorrei sapere chi era chi era chi era c'è un gigante che è lui che era sar bene sar come sempre ottimo difensore io con sar non me trovo che vi devo dire bravo zazza no luiz per una volta che zazza fa una cosa fatta bene gliela roviniamo in quel modo vai di caudio fatela tutta di caudio fai lo stop decente niente di caudio c'ha prima degli stop perché non c'è nessuno perché ve ne andate tu avete paura di pareggiare uno che si propone sulla sinistra siete tutti stramarcati meno male che c'è a pc che ha un cervello funzionante se non ci avessero fatto quel gollaccio all'inizio sarebbe stata tutt'altra partita zazza dove vai zazza dove vai vai kurumà vai kurumà rilancia kurumà per di caudio niente sempre corta o è lunga o è corta ma è giusta bravo sola meno male che sola c'è di caudio per zazza zazza ti supplico mettiti la squadra sulle spalle bravo zazza niente il fare da ballerino ogni tanto si impossessa di lui bravo antonio luis kurumà 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 pancaccia la miseria allora la squadra la squadra c'è ma non è che non ci sono episodi favorevoli allora luiso abberto mi è un po' in calo oggi però non è che abbiamo ste grandi alternative io direi di mettere vacca perché barillà sta un po' calando e di caudio di caudio sta in calo ma non ho non ho alternative al momento potrei mettere di agana ma quel ruolo non l'ho mai fatto non c'ha i piedi e niente lascerei così per adesso semmai poi mettiamo mettiamo l'attacca a 2 verso il 55esimo potremmo fare un 4-2-4 con di agana e zazza dovesse mettersi male almeno un punto vorrei portarlo via 3 punti magari sono troppi ma pareggio se può fare vai zazza vai zazza sta in fuorigioco di 3 anni zazza kuruma no zazza l'ha messa non ci posso credere non ci credeva manco lui mi pareva io stavo già andando in depressione perché mi sembrava fuori bravo zazza ma quale autogol no vabbè mo glielevate il gol a zazza cioè vi prego non può essere considerato autogol ha segnato zazza dategli il gol a zazza se no ci ha messo tanto ma va perché autogol di per in è il portiere l'ha semplicemente deviata ah gliela danno a zazza ma no che mo fa bene tutto ci si è sblocato zazza fermi tutti ci si è sblocato zazza potrebbe essere l'inizio di qualcosa di meraviglioso sempre che ci fanno il 2-1 adesso perché faccio veramente dai ragazzi ce la possiamo fare bravo zazza è mano ha fatto un passaggio tipo palla a volo arbitro pronto farlo da mano solo per quello che gli pare a loro mamma mia gurumà mamma mia gurumà che che riflessi andiamo a vincere questa partita facciamo fare doppietta zazza bravo zazza anche in fase difensiva galvanizzato dal gol sai già cosa fare di gaudio eh vabbè ma questa è ostruzione però è regolamento come gli pare t'ha visto t'ha visto t'ha visto è tua è tua gurumà solo Clemente ha fatto ha fatto il passaggio della vita porcaccio ha fatto il lancio della vita Clemente ma fammi continuare è buona sto in sto in luis 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 casca luis quando sta in aria casca uno che si sovrappone mariappa ti va di sovrapporti non c'ha voglia ha detto che non gli va mariappa in modalità felipe anderson non c'è uno che si muove tutti fermi bravo luis no non è impossibile l'ho vista troppo dentro pure qui non ce posso credere non ce posso credere ok sto gioco è veramente fatto dal demonio cioè quando quando sembra gol non lo è quando sembra fuori la palla entra e quindi non te lo godi e non te puoi divertire è fatto apposta devi soffrire in un modo o nell'altro di caudio di caudio l'hai visto di caudio l'hai visto kurumà da solo kurumà fallo non scatto te prego kurumà c'è poi arrivà kurumà bravo kurumà che cross della ma certo qua il caro vecchio inguardabile roto c'è stava da paura qui in mezzo a sta partita di caudio sai già cosa fare di caudio di caudio di caudio no ho incrociato male ho incrociato male ma vabbè facciamo entrare a ferrari va posto di vista avverto che è lesso vai luis buona prestazione come sempre molto solido poco appariscente ma molto solido io voglio dar fiducia a zazza oggi di agarano lo farci entrare t'hanno visto t'hanno visto di caudio t'hanno visto ma che lanci stiamo a fa' oggi vabbè di caudio però si è messo in moto per fare per fare il cross vacca no vacca vacca ti prego ti prego vacca ti prego non mi fai boicottare le partite bravo vacca ferrari per zazza zazza aspetta una sovrapposizione che non c'è adesso arriva ferrari 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 fallo bravo ferrari bravo ferrari allora c'è kurumà dal dai dai 20 e qualcosa ma io quasi quasi dai 23 io quasi quasi gliela spacco con zazza gliela spacco con zazza non ci posso credere non ci posso credere non è possibile non è possibile la doppietta di zazza insperatissima non è possibile non è possibile non ci posso credere no vabbè doppietta zazza genova col col forse 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 che sia rinnesso di qualcosa di importante per il piccolo zazza che ci ribalta la partita non ci fate segna adesso porcaccia la miseria oh la formazione è stata una benedizione ragazzi ha funzionato alla grande sotto tutti i punti di vista complimenti a tutti quelli che hanno partecipato fatemi rivedere il god di zazza che non so quando ricapiterà ma che spettacolo ma che spettacolo simoncino rosso si è sbloccato non ci posso credere non ci posso veramente credere non ci posso veramente credere è una cosa spaziale sta cosa veramente veramente spaziale io sono senza parole dalla dalla gioia veramente veramente wow veramente wow allora vediamo un po' qua la situazione di Agana Rodriguez Kuruma Tisson Kuruma e continuiamo così continuiamo così oh a parte Kuruma Tisson continua Kuruma va bene Di Agana sta vicino al 69 diciamo che si procede lentamente ma si procede lentamente ma si procede adesso partita chiave in Coppa UEFA partita veramente chiave in Coppa UEFA perché abbiamo la Z allora ha reso conto su Guidetti che per il momento non ci serve ottimo lavoro ah abbiamo compenato l'obiettivo dei 35 milioni della vendita delle magliette quante magliette abbiamo venduto un miliardo di magliette per fare 35 milioni di euro 15 dati di sordi cioè il messaggio era quello implicito vero quanto ci abbiamo di finanzi al momento vabbè wow posso anche variarlo il budget posso scegliere se avere 0 sugli stipendi o 0 sul budget trasferimenti sempre 0 rimane vuoi conservare eh sì sì assolutamente queste ricche importantissime modifiche devo dire che faranno effettivamente la differenza allora con la Z io quasi quasi allora con la Z noi dobbiamo vincere per forza io farei giusto un paio di cambi tipo marcos che ha giocato molto bene l'ultima volta che è stato chiamato in causa di gaudio mollo kuruma nakagawa ecco il resto lascerei tutto esattamente com'è nakagawa ultima chance ultima chiamata ultima chiamata no nel senso vediamo se sei ripreso dopo i turni di stop dovuti a quelle inguardabili prestazioni e vediamo con la Z come va perché se perdiamo oggi credo che possiamo anche simulare tutto il resto dell'Europa League perché stiamo staremo a sei punti con tre partite dal termine ma anche con la congiunzione astrale intanto c'è quello che c'è i capelli che stanno flippando con quello della Z vabbè che c'è